Ha investito con la sua auto un uomo di 68 anni provocandone la morte e non si è fermato per soccorrerlo. Gli agenti del commissariato di Manfredonia hanno fermato Giuseppe Cirillo, 31 anni, nativo di San Giovanni Rotondo, accusato di omicidio colposo, omissioni di soccorso e guida senza patente. È accaduto venerdì sera in Viale Primo Maggio, angolo via Campanile, a perdere la vita Saverio Grieco, 68 anni. L'uomo, trasportato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, è morto il giorno dopo a causa delle gravissime ferite riportate. L'incidente è stato ripreso dalla telecamera di un negozio. Le immagini hanno dimostrato, secondo gli investigatori, che il conducente non poteva non essersi accorto del violento impatto avvenuto a centro strada in un luogo ben illuminato. Presto le ricerche si sono dirette verso una lancia musa nera. Il ripomeriggio, dopo la pressione mediatica di questi giorni, si sono presentati in commissariato prima una ragazza, accompagnata da un avvocato, che ha riferito di trovarsi nell'auto che aveva in vestito Grieco, e poi Giuseppe Cirillo, con l'intento di farla desistere, tanto che ha cercato anche di chiamarla al telefonino, mentre la giovane si trovava già negli uffici di polizia. È risultato dalle indagini che Cirillo era stato in passato destinatario di un provvedimento del prefetto di Foggia, che decretava la sospensione della sua patente di guida, essendo lo sesso stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. E sarebbe stato proprio questo precedente a indurlo a non soccorrere il ferito. L'uomo aveva trascorso la serata in un locale con gli amici, a festeggiare un compleanno ad un centinaio di metri dal luogo dell'incidente. Del resto, sul posto, si erano portati sia il 118 che la polizia a sirene spiegate. I poliziotti non hanno trovato sostanze stupefacenti nelle perquisizioni fatte a casa sua e nel veicolo, che presentava un'evidente ammaccatura sul cofano posteriore lato destro, secondo gli inquirenti compatibile con il violento impatto. L'auto è stata sequestrata.